Musica Pensavo che la cottura statica avesse raggiunto un livello difficilmente superabile, un livello qualitativamente alto che era difficile solo immaginare di far meglio. Non è stato così, è nata serie S, oltre i libidi. Solo moretti forni poteva inventare in fondo del genere. Il progetto nasce da noi utilizzatori, dalle nostre esigenze e contribuisce a far crescere il nostro mestiere e la nostra arte. Serie S coniuga tradizione e tecnologia, soluzioni innovative che si sposano perfettamente con l'esperienza. Moretti forni porre verso il futuro con basi solide. Il futuro si chiama Eco Smart Backing Technology, elettronica intelligente, che permette la gestione separata delle potenze di cielo e platea, con regolazione automatica dell'energia necessaria in base alla quantità del prodotto infornato. Il forno erda l'energia che serve istante per istante. Non ci sono sprechi. Consumi energetici abbattuti del 30%. Il controllo in continuo tramite due sonde di temperatura, disposte sopra e sotto il piano di cottura, permettono di calibrare perfettamente il grado di cottura del prodotto infornato. Massima qualità di cottura al minimo costo. L'interfaccia è affidata all'innovativo display grafico colori. La grafica è immediata e molto intuitiva. Tutte le funzioni sono accessibili in maniera diretta. Il forno si adatta a tutte le esigenze. Abbiamo un picco di lavoro? Massima reattività con la potente funzione booster. Lavoro ridotto? Spegniamo la zona di cottura non utilizzata con la funzione carico parziale. Pausa di lavoro? Eco stand by. Forno al minimo livello energetico. E quando torniamo è subito pronto a cuocere. Serie S, inconfundibile per lo stile. Efficace e pratico. Pale. Ganci buca pizza. Spazzolone al loro posto. Pronti alle nostre esigenze. Serie S. Pensato per noi. Garantisce moretti forni.